Vale la pena di spiegare che cos'è la geometria algebrica. Allora, a seguito della scoperta di Cartesio, di Descartes, del metodo delle coordinate, di quella che si chiama geometria analitica, allora la geometria ha preso un'ampiezza grande, perché si sono studiate le varietà, si sono studiate le curve, le superfici, le varietà, eccetera, diciamo così, che sono oggetti geometrici. Però a questo punto bisogna fare una piccola premessa. Nella storia dell'umanità che cosa è successo? Euclide, 23 secoli fa, che cosa ha fatto? Ha introdotto la nozione di dimensione, in geometria in particolare, e ha considerato i punti di dimensione 0, le curve di dimensione 1, le superfici di dimensione 2, i solidi di dimensione 3. Questo sta nel libro, negli elementi di Euclide, sorti 23 anni fa. Perciò Euclide è uno dei grandissimi, degli immensi matematici che ha portato avanti la geometria. Va bene? La dimensione, punti, curve, superfici, solidi. E qui si è fermato. Dopo 23 secoli, che cosa è successo? Che due matematici, Giuseppe Peano e Grasman, tedesco, Giuseppe Peano italiano e Grasman, hanno introdotto una nuova nozione, quella di varietà. La varietà che cosa innova rispetto alla geometria di Euclide? Innova la nozione di dimensione, Cioè, mentre Euclide aveva studiato oggetti di dimensione 0, punti, dimensione 1, curve, dimensione 2, superfici, dimensione 3, soliti, con la nozione di varietà introdotta da Peano e da Grasman, si può lavorare su varietà di dimensione maggiore o uguale a 4. Prima era un filo a 3, adesso un filo uguale a 4. Perché? Perché Peano e Grasman introducono la nozione di varietà che può avere dimensione non solo 0, 1, 2, 3, ma anche 4, 5, 6, 10. E come avviene che ci sono queste varietà di dimensione 5, 6, 7, 8? Soprattutto con lo sviluppo della geometria delle matrici. Quando ci sono delle matrici, per esempio la matrice è una tabella, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, c'è una matrice 3 per 3, 4 per 4, eccetera, se si prendono i minori di questa matrice ottieni delle varietà che possono avere dimensione maggiore o uguale a 4, per cui esci dalla geometria di Euclide. Va bene? E si entra in quella che si chiama geometria iperspaziale. Va bene? Geometria che è stata soprattutto una grande conquista della scuola italiana, perché la scuola di matematica italiana, a metà dell'Ottocento, geometria, ha portato avanti enormemente la geometria, perché ha considerato le varietà, non solo le curve, le superfici, i punti, ha considerato le varietà anche le dimensioni 4, 5, 6, 10. Perciò ha fatto un progresso enorme.